i punti l'arancione che si vede è marte adesso ve lo faccio vedere ingrandito è eccolo qua eccolo qui che sale lo vedete ovviamente questa è una funzione della reflex è solo riportiamo le dimensioni normali con cui si vede il telescopio si possono ovviamente fare anche delle fotografie possono fare dei filmati so vederlo più o meno scuro devo agire qui allora vi facciamo l'operazione ingrandiamo un pochino con il più chiaro così è più scuro andiamo a riprendere sembra un'arancia è bellissimo marte in questi giorni è molto vicino alla terra lo stiamo vedendo più grande anche se in effetti un puntino nel cielo eccolo qua marte hai sentito la civetta anche se in effetti un'arancia è bellissima Grazie a tutti.